con L'impero colpisce ancora? Una web serie prodotta da Argo Web TV in cui dialogheremo con il professor Giovanni Brizzi, emerito di storia romana dell'Università di Bologna e parleremo con lui di che cos'è stato l'impero romano, di che cos'è l'imperium, che cos'è quello che oggi chiamiamo imperialismo. Ci immergeremo nella storia romana per capire come abbia ispirato modelli nella modernità che forse non corrispondono propriamente a ciò che fu l'impero romano, e ciò che fu, se ci fu, l'imperialismo romano. Abbiamo preso questo titolo, L'impero colpisce ancora naturalmente dal quinto episodio di Star Wars, The Empire Strikes Back, però abbiamo messo un punto di domanda e vedremo come. Prima di tutto però ci tengo a ricordare che siamo nell'anno dell'anniversario dantesco e Dante parla di impero, di impero romano, nella commedia in più occasioni, ma una sola volta usa la parola impero quando parla di Enea e fa riferimento all'alma Roma e il suo impero. Siamo all'inferno nel canto secondo al verso 20. Dante vede nell'impero romano la manifestazione di una volontà divina, di ordine secolare, così come la venuta di Gesù è dovuta all'avvento di un ordine spirituale. Siamo però nell'ambito del mito, del racconto, così come nell'ambito del racconto ci muoviamo da vent'anni con la rivista Argo perché la nostra avventura prende il via dal mito della nave Argo, degli Argonauti, a cui del resto lo stesso Dante si rifà paragonando il suo viaggio nell'aldilà, nei mondi dell'aldilà, al viaggio degli Argonauti. Nel Paradiso a un certo punto dice un sol punto ma è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirare l'ombra d'Argo. Quindi Dante innalza il mito degli Argonauti a un episodio che fece stupire addirittura un dio, Nettuno. Tra l'altro gli Argonauti ispirarono durante il primo secolo dell'impero romano un poeta, Gaglio Valerio Flacco, che dedicò all'imperatore Vespasiano proprio le sue Argonauti che aveva rielaborato sul modello greco delle Argonautiche di Apollonio Rodio. Però ecco qui si interrompe il mito e dobbiamo fare riferimento a quel punto di domanda. L'impero colpisce ancora e qui quindi entra in ballo lo storico, dal mito si passa alla storia. Per cui ho il grande piacere di chiedere al professor Giovanni Brizzi di spiegarci innanzitutto perché ha scelto questo titolo, l'impero colpisce ancora e poi di darci la sua definizione di impero. Grazie, grazie a voi, sono dubbiamente felice di essere qui. L'impero colpisce ancora, punto interrogativo, perché quando noi pensiamo all'imperatore, al senatore Palpatine o a Darth Fener, a me piace più Darth Fener che Darth Vader, l'impero è sempre qualche cosa di nero, di fosco, di antilibertario, cioè ha questo tipo di connotazione. che diciamo le cose come stanno, si collega molto più al termine imperialismo, termine imperialismo che è un termine assolutamente e soltanto moderno. La prima volta, la prima comparsa di questo termine è nel titolo di un'opera di J. A. Hobson, Imperialism and Study, che questo scrive sotto l'impressione della guerra anglo-boera nel 1902, prima questo termine non esiste. Ma poi naturalmente parleremo anche dell'imperialismo, parleremo dell'imperialismo, delle sue varie declinazioni, ne parleremo però più avanti dell'imperialismo romano. I primi a trattare dell'imperialismo romano, a cercare delle categorie per definire l'imperialismo romano sono due grandissimi studiosi, uno storico economico, Rostovzev, e uno storico italiano, De Sanctis, entrambi di matrice cristiana, quindi lontanissimi. E cominciano a dare queste definizioni che poi procedono con l'immagine di Roma come Rauberstadt a un certo punto, come stato predone, che ha influenzato a lungo certi modelli, addirittura si è arrivati al parallelo, totalmente insensato, ma è abbastanza comprensibile. Zechini parla di deliranti giudizi di Simone Weil che paragonano Roma al nazismo, siamo lontanissimi, molte delle categorie del nazismo sono proprio l'opposto di quella che è la realtà romana, cominciare dalla concezione razziale. E poi si arriva al mondo marxista e alla variante economica dell'imperialismo, fino a Badian, fino al grande studioso con il suo famoso libro sull'imperialismo romano, è un grande storico di Harvard che ha scritto questo libro in cui comincia a cercare delle differenze. Ce ne sono altre, io ho una mia idea sull'imperialismo romano, qualcuno, Giuseppe Zechini in un suo eccellente lavoro recente, Giuseppe Zechini è uno dei migliori storici italiani antichi, contemporanei, l'imperialismo romano, un mito storiografico, arriva addirittura a mettere in discussione questa nozione per quanto riguarda Roma. Io non arrivo a tanto, ma insomma sono diciamo così su certe linee. Ma adesso io vorrei parlare del termine da cui il termine imperialismo deriva, cioè il termine di impero. Perché impero, imperium, impero ha infinite accezioni, non credo che riuscirò a darvele tutte nel corso di una sola lezione, però ecco, l'imperium, che cos'è l'imperium sul piano del diritto? Sul piano del diritto è la prerogativa che hanno coloro che bene o male incarnano lo stato romano, siano i re delle origini, siano i magistrati dell'epoca repubblicana, in cui naturalmente per il re l'imperium è una facoltà vitalizia, che dura quanto dura il re fino alla sua morte. L'imperium per il magistrato repubblicano, visto l'odio maturato con la caduta della monarchia, è una prerogativa che può in qualche caso potrà essere prorogata, ma il discorso diventerebbe troppo complesso, restiamo al più semplice, che dura limitata da due garanzie costituzionali o istituzionali, se preferite chiamarle così, cioè l'annualità e la collegialità. Cioè l'imperium è, diciamo così, sempre sottoposto al veto del collega o al veto all'interno di certi limiti del tribuno della plebe ed è sottoposto al fatto che il potere è annuale. Laddove non c'è collegialità, cioè dove c'è un magistrato unico si può dare questo caso con il dittatore, voi avete però che il periodo è dimezzato, cioè il dittatore dura in carica sei mesi, almeno di norma o fino a che non abbia espletato il compito per cui è stato, si è deciso di nominarlo. Comunque non oltre sei meno, almeno alle origini della Repubblica. Quindi è un potere che a differenza della potestas che investe l'ambito civile, investe l'ambito militare. L'imperium è la facoltà di comandare gli eserciti. Però è anche molto di più di comandare gli eserciti in guerra, tant'è vero che gli stessi limiti che riguardano l'imperium in età repubblicana, con il re questi limiti non esistono, ma in età repubblicana esiste una linea sacra, la linea del pomerium all'interno della quale rimane il tribuno della plebe, cioè colui che in sostanza assicura una certa forma di protezione dalla legge bellica, dalla legge di guerra, che invece è quella normale dell'imperium. Si distingue l'imperium tra imperium milizie e imperium domi. L'imperium domi è sottoposto al veto del tribuno della plebe, all'intercessio e addirittura alla facoltà che il tribuno della plebe ha in determinate circostanze di procedere all'arresto del console. L'imperium domi è contrassegnato dal fatto che il cittadino può rivolgersi, cioè la provocatio ad populum, in presenza delle più gravi di una condanna a morte, può cioè appellarsi al popolo e questo fatto fa sì che il console o il pretore, cioè i magistrati di rango più alto, non il dittatore, ma i magistrati di rango più alto, non abbiano nei fasci che sono il simbolo del potere, del potere diciamo così politico del consolo, del pretore, del magistrato, non ci siano le scure, cioè non possono applicare la condanna a morte. Al di fuori, ad un miglio dal pomerium, cioè ad un miglio più o meno dal solco primigenio, naturalmente le due cose non coincidono, ma i problemi qui sono infiniti, a un miglio dalle mura di Roma e dalle porte di Roma comincia l'imperium milizie e lì i tribuni della plebe non possono andare perché debbono rimanere all'interno della città, cioè la città è un'isola, l'URBS è un'isola all'interno della quale non possono essere introdotte truppe. Quindi ecco, l'imperium si collega con il comando militare, si collega col comando militare e ha una caratteristica, io ho definito l'imperium, c'è anche l'altro concetto, l'impero di Roma, cioè l'insieme dei domini su cui si estende il controllo dello Stato, prima della Roma urbana, poi via via della Roma che diventa potenza mediterranea e infine l'impero, quello che noi chiamiamo impero vero e proprio, ma è un altro significato. Io in questo momento sto parlando di un concetto che è un concetto quasi metafisico, cioè nel senso che abbiamo un significato, abbiamo un significato, cioè io ho detto da una qualche parte, non mi ricordo più, sono ormai decenni che scrivo e non so più dove l'ho detto da qualche parte, da qualche parte l'ho detto, ho detto che l'impero è il rapporto tra un popolo e i suoi dei attraverso le figure che lo governano, cioè è una struttura di potere che si fonda su un principio etico importantissimo. Quindi vedete, è diversissimo dal concetto che noi diamo oggi a questa nazione, perché attenzione, l'imperium non esclude la respubblica, la respubblica cioè la cosa di tutti, l'imperium è una manifestazione in cui un popolo, la respubblica, la cosa di tutti attraverso i voti nei comissi investe di questo connotato coloro che la guidano e la guidano attenzione, perché è questo il problema, la guidano in un frangente soprattutto, che è il frangente più delicato nella vita di uno stato, cioè la guerra. L'imperium, la capacità che ha un magistrato di comandare in guerra, si lega ad un fatto, cioè il re o il magistrato ottiene l'imperium, vitalizio per il re, annuale per il magistrato, attraverso una lex curiata de imperio, scusate, in cui le coviria, le curie, cioè l'insieme dei viri, l'insieme degli uomini che portano le armi, l'insieme di coloro che prestano il loro servizio in nome della respubblica, cioè in nome della cosa di tutti, ottiene questo, diciamo così, questo connotato, ottiene questo potere, ma attenzione, lo tiene auspicato, cioè dopo che gli dèi hanno fornito il loro parere. Perché gli dèi? Ecco, e perché questo? Allora, esiste un rapporto che è un rapporto antichissimo, un rapporto che è un rapporto antichissimo, cioè io devo sprofondare talmente indietro nel tempo, vedete chi mi ha introdotto ha parlato del mito, ecco qui addirittura anche qui arriviamo al mito, perché qui parliamo di una realtà che affiora da tutta una serie di sintomi che sono espressi nella letteratura latina, ma la letteratura latina nasce nell'età di Pirro, la letteratura scritta. La letteratura scritta nasce su imitazione del mondo greco, nasce con la traduzione dei poemi omerici a Roma e i primi analisti, i primi storici scrivono in greco, dobbiamo tenere presente questo. Non c'è niente prima di una certa data se non che cosa? Se non una serie di indizi, se non una serie di indizi che ci portano in una certa direzione. Cioè noi dobbiamo immaginarci una realtà nella quale la città ancora non esiste e nella quale la guerra è sacralizzata. Esiste, quando si parla dello ius gentium, io pronuncio il latino all'antica, sono un vecchietto e quindi naturalmente pronuncio il latino come mi hanno insegnato a pronunciarlo quando andavo al liceo, lo ius gentium, cioè si dice è il diritto internazionale. Sì, diventa il diritto internazionale, ma all'inizio è probabilmente il diritto delle gentes, cioè di quelle entità preurbane la cui fusione attraverso un sinecismo, attraverso un sinecismo che può essere spontaneo o può essere forzato, cioè sinoichismos, il termine è un termine politico di origine greca, attraverso la fusione di entità diverse, attraverso la fusione di entità diverse di queste gentes, che probabilmente sono state identificate queste gentes, sono le gentes di cui parla Pallottino, che fanno parte della primissima comunità di Roma, che vengono a riunirsi in una serie di legami e danno vita a questo sinecismo, che può essere spontaneo in qualche caso, di più sinecismi spontanei o forzati. Il sinecismo forzato è il sinecismo con Alba Longa, con la cosiddetta Alba Longa. Guardate, ogni cosa che dico qui richiederebbe, non dico un corso universitario, ma perlomeno un paio di lezioni, quindi fidatevi, vi prego di quello che dico, cioè Alba Longa viene sconfitta e qui dovremmo parlare del come viene sconfitta Alba Longa, perché voi sapete i tre orassi contro i tre curiazzi. Questo fa parte dello ius gentium più antico, sono due gentes, orassi e curiazzi, che si confrontano in nome di due entità che sono entità cittadine. La seconda sconfitta non viene distrutta, cioè perlomeno la città viene abbandonata sempre che sia esistita, ma lasciamo stare. La città viene abbandonata, ma la sua popolazione viene assorbita a Roma. I giuli vantano la loro origine, Giulio Cesare vanta la loro origine, vanta la sua origine da Alba Longa, cioè vengono assorbiti. Quindi la lotta, il confronto fra due gentes e fra tre campioni. Allora attenzione, il diritto, lo ius gentium arcaico, che non è ancora diritto vero e proprio, ma è un insieme di consuetudini, un insieme di usi, un'etica, vorrei dire proprio questo, un'etica, un'etica alla cui base c'è poi l'imperium, come vi ho detto, un'etica che prevede che cosa? Prevede quello che troviamo in tutte le realtà cavalleresche, vorrei dire fino alla Prima Guerra Mondiale, fino agli assi dell'aviazione, fino al Barone Rosso contro Snoopy, se mi passate lo scherzo, fino comunque fino al mondo cavalleresco, fino a El Cid, che è il campione del re di Castiglia contro il campione del re d'Aragona, ecco, ma fino all'Orlando Furioso, i tre cavalieri pagani contro i tre cavalieri cristiani, sono gli Orazzi contro i Curiazzi. Gli Orazzi contro i Curiazzi in cui c'è che cosa? C'è il principio, che è il principio legato all'imperium dell'ordalia, cioè del giudizio di Dio. L'imperium richiede che chi lo riveste prenda su di sé le sorti del popolo che rappresenta, per la vita o una tantum, o una tantum, ma prenda su di sé perché? Perché rispetta alcuni principi fondamentali che sono quelli che fanno la differenza al cospetto degli dèi. Ecco perché l'imperium è il segno del rapporto tra un popolo e i suoi dèi. E i suoi dèi o da un certo momento in poi i suoi valori, perché da un certo momento in poi, ma molto presto, c'è un valore che è un valore fondamentale, che è il valore di Fides. Allora, Fides è un valore talmente importante, che meriterebbe un corso monografico da solo, questo valore. È la prima idealità, la prima nozione etica divinizzata presente sul Campidoglio. Ce l'avrebbe messa, ci sarebbe un saccello a Fides, messo sul Campidoglio da Numa Pompilio, cioè il fondatore della religione romana. Comunque è indubbiamente il primo concetto. Che cos'è Fides? E perché è così importante in un mondo arcaico? Cioè in un mondo in cui i valori sono ancora, tra virgolette, i valori cavallereschi, non è una mia definizione, è una definizione di un grande giurista, io poi l'ho ripresa e credo l'ho molto ampliata, ma è una definizione di un grande giurista, credo sia Volterra, guardate che vado a memoria, vedete non ho appunti davanti, non ho appunti davanti, non ho niente, quindi vado a memoria. Volterra dice c'era questa guerra, io ho intitolato un mio vecchio lavoro la cavalleria dei romani, con le virgolette attorno, perché? Perché è lo stesso principio che noi ritroviamo nel mondo cavalleresco medievale, con tutte le eccezioni, perché attenzione, so benissimo che nel mondo cavalleresco medievale sono troppo amico di Franco Cardini, di Alessandro Barbero, per non avere questo tipo di conoscenza, però attenzione, le regole sono quelle, poi voi potete essere Maramaldo invece che Ogano di Maganza invece che Orlando o Francesco Ferrucci, però il modello è quello. Allora, il modello nel mondo preromano delle origini, nel mondo che darà vita a Roma, è questo modello. Fides e Fides a un certo momento è talmente importante che nel santuario, nel tempio che poi avrà quello grande, quello illustre, sarà conservato che cosa? Saranno conservate le copie di tutti i trattati che Roma stipula con le popolazioni con cui viene in contatto, quindi formalmente sottoposte a Fides, che è il corretto comportamento. Allora, perché io vi sto dicendo che è un valore antichissimo? È un valore talmente antico da essere addirittura indo-europeo. Poi i romani sono quelli che ne hanno fatto un uso straordinario. Badate, Fides è alla base del diritto, cioè della più grande realizzazione che Roma abbia regalato al mondo. Una realizzazione che ne fa con le atrocità che può aver commesso, con le violenze che può aver commesso, ne fa forse l'impero più grande che ci sia stato. L'impero nel senso, vorrei dire, metafisico del termo. Allora Fides, che cosa posso raccontarvi parlando di Fides? Posso parlarvi del mito di Muccio, di Muccio Scevola. Muccio Scevola, a un certo punto, secondo la tradizione, pentra travestito nel campo di Porsenna, che sta assediando Roma, e tenta di uccidere il re. Poi scoperto, parla Etrusco, quindi è travestito da Etrusco, penetra all'interno del campo, eccetera. Ci sono degli Etruschi a Roma, probabilmente già da tempo, eccetera, eccetera. E anzi, ci sono stati dei re Etruschi, c'è una presenza, una forte presenza Etrusca, ma insomma, lui penetra travestito, parla Etrusco, pugnala per errore il tesoriere del re, che forse avesse un tesoriere è quasi impossibile, il modello probabilmente è un modello ellenistico, ma lasciamo stare. Però importa quello che c'è nella simbologia di questo gesto. Poi pone la sua mano, che è rigorosamente la destra, a bruciare sul fuoco. E dice, vedi, tanti come me sono disposti a sopportare qualunque tormento, e qui Livio ci vela la realtà. Cioè questa è la punizione di colui che ha violato la Fides. Si dice di solito di uno spergiuro, no, non di uno spergiuro, di colui che ha violato la Fides dovuta anche al nemico. C'è tutta una letteratura. Poi citeremo Cicerone, per esempio, nel De Offici, citeremo il Cicerone delle sue grandi opere di sistemazione di questo tipo di cultura, di questo tipo di realtà. Ma diciamo che per adesso lui mette la mano sul fuoco e la consuma. Allora, è una simbologia che intanto è legata al mondo romano. Fisici dicunt, sacratas esse, poi ve lo traduco, dicono che siano consacrate singulis numinibus, singulas corporis partes, che ogni parte del corpo è consacrata a un Dio, a un nome, a una forza. Il nome ne è una forza, non è un Dio, chiedo scusa per la traduzione. Ut dexteram fidei, come la destra è consecrata alla Fides. Qual è la mano che voi porgete quando stringete un rapporto? È la mano destra. La mano destra è il simbolo di un rapporto antichissimo precedente all'origine delle città, ed è talmente antico che la ritroviamo nella religione norrena. C'è uno straordinario episodio, che è l'episodio in cui gli Aesir, gli Asi o Aesir, le divinità norrene, sono molto preoccupate da una bestiola dal pessimo carattere, dalla forza spaventosa, e tentano di sterilizzarla, cioè tentano di renderla innocua, cioè si tratta di Fenrir, Fenrir è il grande lupo che nel Crepuscolo degli Dei, nel Ragnarok, nell'ultima lotta, ucciderà se non erro proprio Votan e ne sarà ucciso. E gli propongono un gioco, è ancora un cucciolo questo lupo, e gli propongono un gioco, tu che sei così forte, lasciati legare, poi ti libererai, ci dimostrerai la tua forza. Il filo magico con cui il dio, il dio fabbro, il dio artefice, cioè Tir, Tir che sarà poi ricordato come le dieux manchaux, da uno dei più grandi antropologi di ogni tempo, parlo di Giorgi Dumezil, come il dio mancino, perché? Perché il lupo si lascia legare, ma non si fida, e dice a un certo punto, però chi ha fatto questo laccio, mi mette in bocca la mano destra, e naturalmente quando se ne accorge gliela mangia, è il dio mancino. Addirittura Dumezil parla di mutilazione qualifiant, cioè di mutilazione qualificante, nel senso che dice, beh, bisognava farlo, cioè è una fregatura che bisognava dare a quel mostro, ecco, per cui, ma vi rendete conto, cioè qual è la mano che la bocca della verità vi mangia, se voi dite una bugia, è sempre la mano destra, cioè è una tradizione che ha scavalcato i secoli. Allora, naturalmente, che cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui voi avete un certo tipo di potere e all'inizio stringete dei rapporti con la stretta di mano, ma è una tradizione che rimane in tutta la storia romana arcaica, perché quando voi, alla fine di una guerra, i romani fanno alcune cose che sono assolutamente automatiche dal loro punto di vista, chiedono la restituzione dei prigionieri e la consegna dei disertori. Per ucciderli? No, in origine no, dopo cambierà il discorso, ma alle origini la punizione è il taglio della mano destra, cioè della mano con cui questi hanno violato la Fides. E badate che la Fides è alla base dell'imperium, perché? Perché il primo e più alto requisito a cui chi comanda l'esercito di Roma deve obbedire è il requisito della Fides, cioè deve in sostanza rispettare la Fides anche nei confronti dei nemici. Fides est esiam in inimicos o in ostes servanda, questo è Cicerone. E badate non solum in incipiendo, sed ingerendo e deponendo bello. Lui la scrive molto tempo dopo. Si dice, beh, è un'invenzione della maturità. No, non è un'invenzione della maturità perché noi sappiamo che i romani, diciamo così, avevano un costume che era il bellum justum. Il bellum justum e non c'è dubbio che il bellum justum, ricordato da Cicerone, non sia soltanto un rispetto, il rispetto delle, diciamo così, delle ritualità. Nullum bellum justum, a civitate optima, nisi aut pro fide, aut pro salute. Questo è Sant'Agostino che cita Cicerone. Oppure nullum bellum justum sine causa susceptum. Non c'è guerra che sia giusta, che sia stata intrapresa senza una giusta causa. Ma non è giusta la guerra solo in incipiendo. Cicerone dice ingerendo e quindi voi avete che cosa? La guerra è un blackout. Vorrei dire che la guerra nella mentalità romana, voi dite ne hanno fatte tante, sì, ne hanno fatte tante, però era un mondo in guerra. E le guerre romane cominciano a diventare pesanti. Nella realtà, secondo me, non ci sono, tranne veio, ma ci sono molte cose. Non ci sono distruzioni di città, non ci sono genocidi, ci sono requisizioni di terre. Ma poi qua molto spesso c'è una diffusione, c'è un'apertura politica attraverso formule di cui poi parlerò. Ma insomma, l'imperium, ripeto, prevede per essere rispettato che sia justum anche il prelium, cioè che la battaglia sia una battaglia regolare. E naturalmente non solum in incipiendo, bellum justum, avere delle motivazioni, sed ingerendo, queste cicerone, quindi una fonte estremamente autorevole, sed ingerendo, et deponendo bello. Voleva qualcosa? Sì, professore, ne approfitto per chiederle, proprio perché con l'argomento del bellum justum e della giusta causa siamo entrati nel vivo della differenza che c'è stata da un periodo in cui Roma ha compiuto guerre soprattutto difensive a un periodo in cui ha cominciato a trovare dei pretesti, vogliamo dirlo così. Possiamo dire che l'imperialismo nasce nel momento in cui Roma si accorge che conquistare nuovi territori per ampliare i mercati sia stata ora delle ragioni che l'ha portata a sviluppare quello che è stato definito imperialismo? Allora, intanto bisognerebbe andare per ordine, perché qui saltiamo alcuni secoli. Sì, allora ritorno più nello specifico. Lei ha parlato di bellum justum e di giuste cause, ma era una giusta causa fare la guerra in Sicilia nella prima guerra punica? Allora, però lei ha delle conclusioni che le stanno a cuore, ma deve a un certo momento lasciarmi spiegare le cose. Io non sto dicendo che abbiano sempre obbedito a queste regole, sto dicendo intanto che a lungo non esiste un imperialismo. A lungo non esiste un imperialismo, il primo atto di imperialismo secondo me vero e proprio è quello, gli altri sono confronti rituali molto spesso, è una guerra ritualizzata, le conquiste di mercato verranno molto avanti e verranno molto avanti e oltretutto non saranno quasi mai il portato di un'aristocrazia, ma saranno il portato di ceti mercantili e di realtà completamente diverse. Anche la conquista della Sicilia, di cui lei mi chiede, è una conquista che indubbiamente è la prima fiammata imperialista, salvo poi ricadere in categorie completamente diverse e anche in questo caso è una fiammata imperialista dettata non tanto dalla maggioranza del Senato, ma da alcuni ambiti di un'ala avanzata del Senato che ha le sue clientele nei gruppi mercantili dell'Italia meridionale, che magari non sono neanche cittadini in qualche caso. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di cose da vedere che saranno però viste una dopo l'altra. Allora, quello che io sto dicendo è che Roma ha questo modello, non sto dicendo che lo abbia sempre rispettato, sto dicendo però che molto presto, grazie a questo modello, raggiunge una struttura che è superiore a tutte le strutture politiche del mondo di allora e questo molto presto, molto presto perché quando Roma affronta Cartagine e la affronta in Sicilia, a un certo punto noi vediamo che tutte le comunità greche della Sicilia passano al fianco di Roma, ci sarà un motivo per questo. Noi vediamo che nel momento in cui Roma affronta Cartagine, Cartagine è una polis, però io queste cose le devo spiegare una per una perché altrimenti non ci capiamo, Cartagine è una polis e rimane una polis. Se lei è nato a Biserta o a Ippodiarritus o anche fuori dalla Corea di Cartagine, lei non diventerà mai cittadino di Cartagine, come non diventerà mai cittadino di Atene se è un meteco trasferito ad Atene. Addirittura gli ateniesi si dichiarano autoctoni nel discorso di Pericle, e quindi nativi della città. Gli stranieri, gli xenoi sono i greci e tutti gli altri sono barbari. Roma questo concetto non ce l'ha. Roma apre e a un certo momento assorbe attraverso il meccanismo di cui io stavo parlando, che è un meccanismo che si intende soprattutto sulla guerra, perché se facciamo una guerra senza regole alla fine ci ammazziamo e ci detestiamo a vicenda, se facciamo una guerra di un certo tipo arriviamo a certi risultati, a forme di integrazione. Guardi, le dico questo e rispondo già in parte alla domanda, rispondo in parte alla domanda perché in realtà la visione è una visione molto particolare, quella che io propongo, cioè il problema dell'assorbimento delle popolazioni è un problema che comincia molto presto, ma è un problema che assorbendo i vertici attraverso il matrimonio, attraverso intanto un'intesa che è un'intesa su una base comune, quello ius gentium, quel diritto delle gentes, di cui ho parlato fino all'origine, che consiste anche nel non massacrarsi a tradimento, nel non distruggere le popolazioni conquistate. Attenzione, persino il termine servus a Roma ha un significato molto chiaro e un'etimologia molto chiara. Il termine servus viene a servare, cioè dall'avere edulcorato una legge di guerra che prevedeva che si uccidessero tutti i vinti, lì si conservava, pensate a che cosa fa Achille con i prigionieri troiani. Cioè, ecco, attenzione, cerchiamo di vedere le cose in un certo modo. La Fides è la base di un'intesa comune, un'intesa comune che porta molto presto all'assorbimento all'interno di una certa Italia, con l'altra Italia non funziona, quindi qui cominciamo già ad andare in una certa direzione, con l'altra Italia non funziona perché l'Italia delle transumanze, l'Italia degli appennini ha una logica completamente diversa e dovrà essere assorbita poco a poco, prima conquistata e poi assorbita, l'Italia degli appennini non sono i romani che vanno in salita, non sono le popolazioni tireniche che vanno in salita, sono le popolazioni appenniniche che scendono in pianura, cioè scendono in pianura con le cosiddette primavere sacre, e con le cosiddette bande mercenarie. Attenzione, la guerra la portano in pianura le popolazioni delle montagne, perché naturalmente hanno più figli che terre, perché naturalmente hanno dei problemi di sussistenza e di economia, ma questo non toglie che siano delle mine vaganti demografiche e rimarranno a margine. È un discorso molto lungo, bisogna vedere come la cosa si… perché qui parliamo di centinaia di anni, quindi non possiamo appiattire tutto il discorso nell'arco di poche cose e dare una visione generale. Bisogna a un certo momento che definiamo che cosa succede. Allora, io dicevo il bello un just, il just un prelio, cioè la guerra è in questo ethos condiviso, che non è soltanto romano, ma che i romani sfruttano meglio degli altri, la guerra è un blackout, è l'interruzione di un normale circuito che bisogna bypassare, bisogna bypassare mantenendo il rapporto con gli dèi, quindi bisogna avere una giusta causa. Non ho detto che lo mantengano sempre, i dieci comandamenti, chi è che li mantiene sempre? Però sono i dieci comandamenti, sono una delle grandi legislazioni della storia, le delibere dell'ONU vengono sempre mantenute, cioè questo dobbiamo chiederci, perché se accusiamo i romani di averle rotte, allora accusiamo tutte le popolazioni di tutti i tempi di aver sempre fatto qualche cosa che non va. Io non sto dicendo che non abbiano fatto mai qualche cosa che non va, sto dicendo che il loro rapporto con gli dèi prevede di comportarsi in un certo modo. Allora, il justum prelium, il justum prelium si dice la battaglia campale, ma avranno usato la perfidia, cioè la violazione della fides, la useranno, ma alle origini non è prevista, tant'è vero che quando mutuano dal greco il loro lessico, il loro lessico militare e politico, lo mutuano dal greco, i primi analisti sono greci, traducono l'Odissea, l'Iliade e l'Odissea e mutuano Fabio Pittore, eccetera, mutuano il loro lessico dal greco, non traducono il termine stratagemma, frontino scriverà uno stratagemmaton libri, cioè un libro di stratagemmi usando il termine greco, perché non ha il termine romano, cioè l'uso di imboscate, tradimenti, uccisioni spietate, eccetera, uccisioni dei capi nemici, non è previsto, lo impareranno, lo impareranno, ma il mito di Scevola va proprio in quella direzione lì, cioè le origini vietano di usare certi mezzi, poi impareranno, certo, come tutti gli altri, impareranno, ma nel frattempo avranno costituito qualche cosa, avranno costituito qualche cosa che è per esempio il metodo della Civitas Sinesufragio, perché in quest'ottica assorbono le aristocrazie di una serie di realtà, di una serie di realtà che hanno in qualche caso sconfitto, in altri casi protetto militarmente, per esempio dalla calata dei popoli appenninici, e le assorbono a livello di senato, cioè noi abbiamo degli Etruschi, dei Campani, dei Latini, dei Sabini, degli Umbri, dei Volsu, che siedono nel senato di Roma a partire dalla fine, prima della fine del VI secolo a.C., quindi a un certo momento noi abbiamo che cosa? Abbiamo quella che un grande studioso, grazie a questi modelli, a questo modo di essere, quello che è un grande studioso, cioè Claude Nicolet ha parlato di una cittadinanza a due livelli, in realtà prima di Claude Nicolet ne ha parlato Cicerone, Cicerone dice ci sono due tipi di cittadinanza, cioè la cittadinanza dell'anima, cioè il paese dove siamo nati, cioè Tuscolo o quello che è, e la cittadinanza del IUS, cioè del diritto, vale a dire la cittadinanza romana per la quale dobbiamo vivere e morire, eccetera, eccetera. Allora, esiste una cittadinanza a due livelli per lungo tempo, fino a che tutta l'Italia non avrà la cittadinanza romana Optimo Iure, che è la cittadinanza sin suffragio, cioè senza diritto di voto. Voi mi direte cosa serve la cittadinanza senza diritto di voto, il problema da capire è che si vota solo a Roma. Allora, ciò che la cittadinanza sin suffragio offre, lo offre non a tutte le popolazioni, ma ai loro gruppi dirigenti, alle loro, tra virgolette, aristocrazie, cioè il notabile di Cere, di Cerveteri, da un certo momento in avanti di Cere, poi Cerveteri è la realtà, sa che se vuol contare deve essere rappresentata all'interno del Senato di Roma. Il pescivendolo di Cerveteri non sa niente della doppia cittadinanza, un mondo dove oltretutto anche l'alfabetizzazione era ridotto, parliamo di 2600 anni fa, 2500 anni fa, cioè parliamo di realtà di questo tipo, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono il pescivendolo di Cerveteri, a casa mia vedo le cose che vanno come sono sempre andate, cioè il governo è tenuto da alcune gentes, i magistrati sono sempre i laucme o quello che è, o i marones se sono italici o o altro, o i dictatores se sono latini, insomma sono sempre quelli che ci sono sempre stati e sono sempre quelli. Il personaggio che conta sa che se vuol contare davvero la sua gens deve arrivare a Roma, deve arrivare a Roma attraverso che cosa? Attraverso in genere attraverso il matrimonio. Cioè la civita sine suffragio dà tre cose, tre diritti ai cittadini di Cere per esempio, ai cittadini di altre realtà, sono tante insomma, gli dà il connubium, cioè il diritto di sposare una romana, il commercium, vale a dire il diritto di acquisire la dote, il connubium è addirittura pregiuridico, è addirittura un'antica norma religiosa, ma diventa un diritto e loius migrandi, cioè il diritto di trasferirsi acquisendo la cittadinanza. Cioè se io nasco a Ippodierritus, cioè a Biserte, mi trasferisco a Cartagine, non sarò mai cittadino di Cartagine, lo stesso vale per Atene, lo stesso vale per tutti, qui no, qui mio figlio, io sono il notabile di Cere, poi ci sentiamo tra consuoceri, è anche la ragione per cui a un certo momento chi fa la lotta tra patristi e plebei sono questi plebei, cioè coloro che si sono inseriti in città in posizione di controllo e che hanno tutto l'interesse, anche certi legami continuino ad esistere e non ci sia la cosiddetta serrata del patriziato. Quindi a un certo momento è una realtà che nel mondo di Cartagine o nel mondo di Atene è la polis, qui è la civitas, cioè il cerchio aperto e allora potete far tutto quello che volete, Roma verrà sconfitta tante volte militarmente. Il potere militare di Roma è una favola creata a posteriori, Porsenna la prende, i Galli la bruciano, i Volsce e gli Equi arrivano alle porte di Roma, poi c'è il mito di Coriolano che li ferma, cioè il loro comandante dice no fermiamoci qui. i Sanniti vincono la prima guerra Sanniti e quasi vincono la seconda e la terza, Pirro vince tutte le battaglie campali che combatte in Italia tranne l'ultima, ma l'ultima la pareggia però non può vincere e Annibale ucciderà più di 200 mila, la guerra annibalica ucciderà più di 200 mila abitanti della penisola, però il problema è una struttura politica, una struttura che ha delle risorse che nessun'altra realtà del Mediterraneo ha e se non capiamo la Fides, non capiamo come ci siano arrivati, ci arrivano attraverso questo meccanismo che è un meccanismo politico, non un meccanismo militare, un meccanismo militare nasce dopo la seconda guerra punica, la grande potenza militare di Roma nasce dopo che un cartaginese che è uno dei più grandi comandanti di tutti i tempi gli ha insegnato come si fa, ecco questo volevo cercare di far capire, cioè a un certo momento, un certo momento, loro sono più forti, sono più forti anche perché anche laddove non sono arrivati i loro agganci con le aristocrazie, volete paragonarli a qualche cosa? Vi va di fare un paragone? Beh, una massoneria al cui confronto la massoneria inglese del XIX secolo, del XVIII, diciamo la massoneria della loggia America, ecco io sono Simon Bolivar, faccio parte della loggia America, ma se spero di andare a sedere alla Camera dei Pari non ci arriverò mai, io sono un volumnio e sono consolo a Roma, e sono console a Roma, quindi questo è il discorso, loro hanno un processo ma assorbono le aristocrazie e attraverso le aristocrazie gestiscono volta per volta i problemi locali, gestiscono i problemi locali, se le cose poi non funzionano e loro la civita sinesufragio l'hanno concessa in maniera intempestiva, allora succede una cosa, succede che invece di avere il magistrato locale, cioè l'Aucme, il Maro, il Dictatore, eccetera, eccetera, succede che arriva il prefectus del pretore urbano, arriva il prefectus del pretore urbano che dice ragazzi qui la ricreazione è finita, adesso il magistrato sono io, governo io, cioè il problema è la saldatura di una serie di aristocrazie, per cui io sono console a Roma nel 295, sono un volumnio e sono console a Roma nel 295 addirittura prima che la mia città sia stata conquistata, cioè Perugia è al vertice di una lega che è una lega antiromana e però viene via da quella lega, perché? Perché una parte preponderante della sua aristocrazia ha delle intese formidabili con l'aristocrazia romana e c'è un volumnio console a Roma quando Perugia nel 296 sta apprestandosi a guidare una lega etrusca collegata con una parte dei Sabini, con una parte degli Umbri, con i Sanniti, con i Galli, in quella che sarà la battaglia delle nazioni, solo che gli etruschi vengono via. Il problema è quello lì, cioè non c'è la forza militare, c'è una spregiudicata, straordinaria, intensissima forza politica. Ecco, questo credo che per oggi possa più o meno bastare così, se volete posso parlare un mese su queste cose qui, ma insomma, magari ci torniamo la prossima volta, ma la realtà romana è questa. Sì, grazie professore, le riporto i saluti, buonasera professore, poi le opinioni di docenti che ci stanno seguendo, bellissima e vivificante ventata di romanità, grazie davvero, e quanta attualità potremmo trovare grazie di questa magnifica lezione. Grazie, sono contento se l'è piaciuta, poi naturalmente se ci sono domande, io sono anche disponibile a domande, a cose, naturalmente sapete che io sono assolutamente disponibile, comunque la prima lezione diciamo che abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco. Certamente, credo che dalla metafisica con cui ha esordito al ruolo fondamentale, della politica, prima ancora che delle armi, abbiano già inquadrato molto bene qual è il problema, ed è il problema di come abbia fatto una città che si è aggregata da una serie di villaggi molto probabilmente a dominare tutto il Mediterraneo, arrivare in Britannia e poi fino in Mesopotamia e quindi espandere quasi indefinitamente il suo impero. Nelle prossime lezioni, dialoghi, ci chiederemo che cosa ne fu dei ribelli che provarono a contrastare questo impero e mi piace ricordare appunto che il professor Brizzi tra le altre sue pubblicazioni ci ha donato questo eccezionale saggio, Ribelli contro Roma, in cui si parla di naturalmente Spartaco, dell'altra Italia. Quindi la prossima volta ci immergeremo anche in questo ulteriore aspetto di quello che fu l'impero romano. Io ringrazio il professore, ringrazio Andrea Capodimonte che sta dietro le quinte, ha prodotto questa prima puntata e ringrazio tutti gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di L'Impero. Colpisci ancora? Grazie a voi e ci sentiamo.